Siamo nel real sito di Carditello, dove la Federazione Italiana Sport Equestri ha sottoscritto un accordo con la Fondazione stessa per dare lustro a questa location meravigliosa conosciuta in tutto il mondo. La FISE per dare visibilità si impegna a organizzare una serie di eventi, tra cui il primo il giorno 6 di maggio con una gara Endurance Pony, successivamente il giorno 21 con una gara Endurance Cavalli. Naturalmente l'accesso è libero e ci sarà la possibilità di far provare ai tanti bambini che verranno il battesimo della sella. Siamo all'interno del real sito e stiamo sperimentando questo protocollo di intesa tra FISE, Federazione Italiana Sport Equestri e Fondazione del real sito di Carditello, che è la naturale evoluzione dal periodo borbonica ad oggi. Infatti questo solo dove stiamo passeggiando adesso è il più antico galoppatoio e il più grande all'interno di un real sito. Voluto prima da Carlo di Borbone e poi dal figlio Ferdinando IV, nel 1792 qui fu inaugurata la prima gara per cavalli dedicata proprio a tutta la corte che veniva gratuitamente in questo sito per festeggiare, per gareggiare, per vedere questi meravigliosi animali. Il nostro impegno è quello di creare la massima accoglienza per tutti coloro che parteciperanno a queste gare e potranno anche fruire le bellezze del real sito. Quindi ci saranno dei punti di accoglienza e di ristoro nelle aree esterne, c'è un'area picnic verso l'esterno del sito adiacente al campo di gara e si farà in modo anche per le famiglie di creare dei percorsi guidati all'interno per poter visitare l'antico sito borbonico. Vi invitiamo tutti e auguriamo a tutti di essere presenti per divertirvi insieme ai tanti piccoli bambini. Vi aspettiamo qui! Grazie a tutti!